Attenzione, il video contiene spoiler, sconsiglio la visione a chi vuol godersi la serie di Naruto. Per tutti gli altri mettetevi comodi, saranno video lunghi, ma non è necessaria la visione, prendetelo come un podcast da ascoltare mentre lavate i piatti. Buona visione. Hello guys, I am Phil, ma qualcuno mi conosce anche come Virex ed eccoci qui tornati con un nuovo video e soprattutto con una nuova serie. Serie che ho progettato prima di addormentarmi, quindi forse è una serie del cazzo, ma sapremo dargli il giusto valore. Perché la serie di oggi si basa molto sull'interazione tra me e voi e soprattutto in alcuni casi anche sulla vostra genialità, perché in alcune occasioni sarete voi a decidere esattamente l'argomento da trattare. Infatti stiamo iniziando una serie basata sulle unpopular opinion, quindi opinioni contrastanti rispetto alla maggior parte del mondo, che possono essere a tema anime, a tema manga, a tema videogiochi, film, serie tv, musica, cibo, tipo la Pepsi è meglio della Coca-Cola, o PES è meglio di FIFA, insomma tutte queste cose, non lo so, il PC è meglio delle console, tutte quelle cose hanno sempre messo in contrasto il mondo intero, o comunque diciamo la maggior parte della popolazione rispetta una piccola nicchia di persone e molto spesso su Telegram o su Instagram, mi raccomando il link è in descrizione, lascerò dei box domande dove sarete voi a darmi dell'unpopular opinion, che se riscontrerò anch'io, insomma, in sintonia, andremo a commentare in un video. Per il video di oggi in realtà avevo in mente due idee, solo che una, chi mi conosce forse sa già anche a cosa mi riferisco, era una di quell'unpopular opinion che se tratti male, cioè già mi prenderò un sacco di maledizioni e potrei compromettere il mio processo vitale da qui per i prossimi proprio due anni, però se lo tratto magari un po' meglio, magari riesco ad arrivare ai cinque anni, quindi quello è un video che rimanderò più avanti quando effettivamente sarò attrezzato per trattare quel tipo di video. Quindi partiamo oggi con una popular opinion piuttosto famosa, che ormai è diventata penso la base meme di tantissimi post su Instagram, insomma a tema anime, cioè Sakura Aruno non fa schifo. E lo so, lo so che molti già saranno di ma che cazzo stai a dire ma l'hai visto Naruto? Con calma perché adesso ci arriviamo, perché in questo primo episodio di Unpopular Opinion vedremo quali sono i miei pensieri, le mie opinioni, sul perché Sakura invece è uno di quei personaggi che a livello proprio di costruzione, di crescita, secondo me è uno di quelli fatti meglio in assoluto. Quindi, iniziamo il video, mi raccomando, sarà poi importante sapere cosa ne pensate voi nei commenti. Iniziamo quindi ad analizzare il perché Sakura Aruno non fa schifo. Punto primo, le sue origini. Noi molto spesso siamo abituati a confrontare Sakura con Naruto e Sasuke, perché giustamente erano gli elementi con cui si confrontava più spesso i suoi compagni di squadra. Ora, la problematica dov'è? È che Sasuke, discendente degli Uchiha, quindi clan fondatore, cofondatore di Konoha, del villaggio della Foglia, è possessore di una delle obilità oculari più forti in assoluto. L'altro, figlio del quarto Kage, derivante dal clan Uzumaki, quindi un clan che è sempre stato famoso per la sua forza vitale, per la sua energia, per la grande quantità di chakra, e soprattutto Naruto dentro di sé aveva una bestiolina, no? Tanto pucciosa, carina, che era Kurama, che a livello di Kyuubi, quindi il cercoteri, era la più forte, perché proprio basandoci sulla mitologia giapponese, il numero di code rappresentava la forza del cercoteri. Quindi in questo caso la volpa a nove code era la più forte in assoluto. Sakura invece proveniva dal clan Aruno, che noi li abbiamo visti i genitori, il padre non ha scappato di casa, la madre giustamente poteva fa poraccia, cioè dopo aver sbagliato marito purtroppo era irrecuperabile, quindi Sakura purtroppo partiva già in svantaggio rispetto agli altri due, ma perché lei non aveva un talento innato derivante dalle sue origini. Quindi è come dire, ah domani andiamo in pista, e si presentano uno con una Ferrari, uno con una Lamborghini e una con la Panda 4x4. È normale che la Panda 4x4 sarà la più lenta, perché giustamente, cioè, è una Panda e quella è una Ferrari. Quindi dire Sakura Aruno è debole, Sakura Aruno è inutile? No, perché Sakura per arrivare dove è arrivata, ha dovuto fare degli sforzi che non sono maggiori o minori rispetto a quelli di Naruto e Sasuke, ma sono rapportati al fatto che purtroppo lei partiva da una base molto più bassa rispetto a quella degli altri due. Quindi se lei è arrivata a essere quello che è, perché si è fatta anche lei un culo tanto, e non perché è inutile e piange sempre. Quindi innanzitutto ricordiamoci che quando parliamo di Sakura, parliamo di una poraccia che è nata sfigata. Secondo motivo per cui Sakura Aruno non è scarsa, ovvero la sua caratterizzazione. Noi siamo infatti abituati a leggere o comunque a dire che Sakura è una che durante la serie A piange sempre, A si è sempre appoggiata a Naruto, A e tutte le volte ha chiesto aiuto, A è il juzzo più importante di Sakura, sono le lacrime, A Sakura fa schifo, A Sakura è scarsa. In realtà, con una visione più attenta, si riesce a capire che invece il personaggio di Sakura è uno dei personaggi secondo me meglio caratterizzati e meglio scritti di tutta la serie, perché è vero Sakura piange, è vero Sakura si sente debole, ed è lei a riconoscerlo, ok? Ci sono tanti episodi, addirittura il 373, perché mi stavo rivedendo anche un po' alcuni episodi prima di fare questo video. Lei è la prima a dire, io ero debole, io mi sono affidata a Naruto, io ho pianto, ma quelle lacrime erano lacrime di frustrazione, perché lei si rendeva conto di avere dei limiti, lei si rendeva conto che in quelle occasioni in cui si è affidata a Naruto, lei si è affidata all'unica persona di cui si fidava, perché lei non era in grado. E questo non vuol dire essere deboli, perché riconoscere i propri limiti, secondo me, è una delle dimostrazioni di forza più elevate in assoluto. Cioè lei si è resa conto di non poter fare nulla, di essere impotente rispetto a recuperare Sasuke, per fare un esempio, e si è affidata all'unica persona sulla quale sapeva di poter contare. E il riconoscere questi suoi difetti, questi punti deboli, secondo me, sono in realtà un grande punto a favore per quanto riguarda la caratterizzazione di Sakura. Anche perché poi non è che lei ha continuato a piangere per tutta la serie, è vero, lei ha pianto, lei diverse volte ha chiesto aiuto a Naruto, riconoscendolo, perché lei non ha mai negato tutto ciò, anzi, lei è la prima a ricordare più volte nei flashback, il fatto che comunque ha sempre guardato le spalle degli altri due, che gli altri due sono sempre stati un passo avanti a lei, che gli altri due erano sempre più rapidi, erano sempre più veloci, avanzavano, 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 senza guardarsi indietro, quindi lasciandolo indietro. Però lei non ha sfruttato questa cosa per dire, vabbè, sono irraggiungibili. Lei l'ha detto, ha detto, sono arrivato a un punto in cui pensavo di non poter essere in grado. Poi ho capito che potevo farcela anch'io, e quindi che cosa ha fatto? E' andata da Tsunade, che era uno dei tre ninja leggendari. Quindi sì, Sasuke si è allenato con Orochimaru, Naruto si è allenato con Jiraiya, ma Sakura si è allenata con Tsunade, che comunque era il quinto Okage, giusto per dirla, e soprattutto era uno dei tre ninja leggendari. Quindi non è che Sakura nel frattempo si è fatta allenata all'idraulico, che ogni tanto andava a casa per mettergli a posto il rubinetto, quindi comunque Sakura si è tirata sulle maniche e ha detto, ok, qui c'è da lavorare, Tsunade allenami, è ora di recuperare il tempo e soprattutto la strada persa rispetto a quegli altri due. Quindi secondo me questo passaggio, questa crescita di Sakura è importantissimo, e dimostra quanto lei sia consapevole dei propri limiti, e sia consapevole del fatto che dovrà lavorare tanto, per raggiungere gli altri due. Poi parliamo anche di questo raggiungere che è molto importante. Passiamo a questo punto a una sorta di recap di tutto quello che Sakura ha fatto, ok? Perché noi diciamo sempre Sakura è inutile, ma ci vogliamo ricordare di quello che Sakura ha fatto durante la serie? Partiamo da Naruto, prima serie. Esame di Chunin. Orochimaru attacca, Naruto e Sasuke. Li stende proprio come se non ci fossero domani. Sakura giustamente, impotente in quel caso, non sapendo cosa fare, è rimasta pietrificata, anche per paura, giustamente, stavamo parlando comunque di Orochimaru, non dell'ultimo arrivato. Ma quando gli altri due erano incoscienti, è stata Sakura a prendersi cura di loro. E quando sono arrivati Ninja del Suono, è stata Sakura a mettersi in mezzo, pensando a difendere i suoi compagni. A Sakura non importava della sua vita, importava proteggere quella dei compagni. Poi ok, è stata aiutata anche da Rock Lee, piuttosto che da Shigamaru, ma Sakura non si è preoccupata della propria incolumità. Sakura si è buttata in mezzo e ha detto adesso tocca a me proteggere gli altri due, che mi hanno sempre protetto. Quindi lei riconosce sempre il fatto che gli altri due l'hanno sempre trattata comunque in modo attento, con cura, badando a lei. Ma in quel caso era ora che Sakura badasse a loro. E questo secondo me è già un primo punto. Poi sempre all'esame di Chunin, comunque ha affrontato Ino a testa alta, riconoscendo comunque il fatto che Ino viene da un clan che comunque ha un minimo di talenti e di ninjutsu particolari. Sakura non ha mai lottato con un ninjutsu. Lei si è sempre basata sul taijutsu e sulla sua elevata resistenza rispetto alle arti illusorie. Quindi anche questo comunque, secondo me, è un gran risultato. Per quanto poi sia finito in pareggio, eccetera, eccetera, eccetera. Però, affrontata a testa alta, una persona che, così, basandosi sul mero talento, era comunque un passo più su. Arriviamo poi a questo punto a Shippuden. Facciamo proprio un bel salto. Dopo che si è allenata con Sunado e due anni, primo arco narrativo, Gaara è in pericolo. Arrivano al villaggio della sabbia, se non era per Sakura, Kankuro stava già lì dall'alto, no? A fare l'angioletto e a insegnare agli angeli a fare il marionettista. Perché è stata Sakura a salvare Kankuro dal veleno. Punto primo. Punto secondo, sempre nello stesso arco narrativo, è stata Sakura a sconfiggere Sasori. Ok? Sasori. Un membro dell'Akatsuki, non proprio la prima pippa incontrata per strada. E adesso tutti quelli che diranno, eh ma c'era la vecchia Cio, quindi, gne gne gne, Sakura fa schifo comunque. No, di un sacco di stronzate. Adesso mi nervosisco. Perché? È vero, c'era la vecchia Cio, ma è stata Sakura a sacrificare il proprio corpo e a dire, usami come marionetta. è stata Sakura a farsi esplodere per dissipare il veleno per evitare di morire. È stata Sakura comunque a sfasciare di mazzate Sasori. È vero, Cio è stato un gran supporto, ma se non era per l'antidoto di Sakura, se non era per la sua forza, non avrebbero mai battuto Sasori. E poi, scusatemi, Rock Lee, per battere Kimimaro, non è arrivato Gaara a dargli una mano? Ma qualcuno ha mai detto, ah, Rock Lee è scarso? No. Ci sono delle situazioni in cui il sostegno degli altri è fondamentale. Anche Naruto, senza Sasuke, non avrebbe mai battuto Kaguya. E quindi, Naruto è scarso? No. Ci sono delle situazioni in cui il supporto è fondamentale. Altrimenti, perché un team ci stanno quattro persone se poi lo devi sconfiggere da solo? Che cazzo vai a fa' Anche Zabusa, mi sembra che aveva messo un attimo in difficoltà Kakashi e sono stati Sasuke e Naruto a liberarlo dalla trappola dell'acqua. Quindi, dire che Sakura non ha fatto nulla contro Sasori perché c'era la vecchia Cio, per quanto mi riguarda è una grandissima stronzata. Punto. Perché ripeto, è vero, è stata supportata, ma è stata Sakura a mettere comunque se stessa anche in quel caso in prima linea. Passiamo oltre, passiamo alla quarta guerra ninja, quindi siamo quasi alle ultime battute. Sakura ormai è diventato un ninja medico con i controcazzi, è diventato probabilmente il miglior ninja medico dopo Tsunade. L'unica, ok, che è stata in grado di controllare il Byakugo, quindi la tecnica dei 100 segni curatori, che nemmeno Shizune è riuscito a padroneggiare. Quindi comunque stiamo parlando veramente di un ninja medico che ha raggiunto il top del top del top e dirige parte della sezione medica. Quindi stiamo parlando comunque di una persona che di talento ne ha e anche abbastanza. Per carità, talento che non deriva dalla nascita ma dal fatto che si è fatta un culo tanto con Tsunade. Quindi già questo, raga, tanto di cappello a Sakura. Seconda cosa, se non fosse stata per lei, Naruto sarebbe morto e, escluse tutte le volte che lo ha curato durante le battaglie, è stata Sakura a mantenerla in vita facendogli compare il cuore con la mano e se Naruto fosse morto, Kaguya con cosa la si sigillava? Questa gran ceppa di favazza. Ok, quindi Sakura è stata fondamentale per permettere comunque a Naruto di sopravvivere e arrivare poi a fare quello che ha fatto. Oltre al fatto che anche nello scontro con Kaguya stessa è stata Sakura che dall'alto ha chiuso la via a Kaguya altrimenti anche lì e Sasuke e Naruto se la prendevano in quel posto. Quindi comunque per quanto magari ad esempio Sakura durante la battaglia contro Kaguya abbia partecipato poco è stato fondamentale il suo intervento. Ok, come membro del Team 7 oltre al fatto che ricordiamoci anche che è stata Sakura a permettere a Obito di cercare nelle dimensioni parallele per riportare indietro Sasuke? Se non era per Sakura Obito riportava indietro sto cazzo e Naruto da solo sigillava Kaguya? No! Quindi anche lì Sakura è stata fondamentale perché ha usato il proprio chakra le proprie capacità per permettere a Obito di riportare indietro Sasuke. E raga queste non so cose che uno si può scordare e dire Sakura è inutile cioè raga venivano elencate diverse di cose che Sakura ha fatto affinché tutto andasse nel verso giusto cioè Sakura si è impegnata tanto in questo percorso e quando dice quella famosa frase che tutti prendono per il culo no? Sempre in episodio 373 quando lei dice Tsunade Sama finalmente ho raggiunto questi due lei non intende raggiunti come forza cioè Sakura sa che comunque è ancora più debole rispetto agli altri due salvo nella forza fisica perché vabbò Sakura scrastra la grossa terrestre però indipendentemente dalla sua forza fisica no? Lei sa che comunque rispetto agli altri due è ancora indietro ma quando dice li ho raggiunti si riferisce al fatto che finalmente non è più un membro da proteggere ma è un membro integrante del team 7 lei lo dice finalmente io posso partecipare alle battaglie con voi non siete più voi a dovervi preoccupare di me non sono io a dovervi guardare le spalle ma siamo tutti e tre che ci guardiamo le spalle a vicenda perché adesso Sakura è un membro sul quale il team 7 può contare quello è ciò che vuole veramente dire Sakura non è ah li ho raggiunti perché adesso sono fortissimo perché anche lì non può ma come puoi raggiungere uno che c'ha lo Sharingan il Mangekyo Sharingan quindi lo Sharingan potenziatissimo che poi vabbè diventerà quello che diventerà eh ok quell'altro c'è il pieno controllo del Kyuubi di Kurama quindi c'è una quantità di chakra immenso quello potrebbe continuare per ore e ore è impossibile non ne hai proprio le possibilità cioè anche Rock Lee che poi in Boruto diventa il terzo ninja più forte in assoluto ma rispetto a Sasuke e Naruto quanto cazzo sta indietro perché non puoi compensare quelle abilità quelle capacità che purtroppo loro hanno dalla nascita ok cioè anche Neji uno dei migliori ma perché cazzo per carità Neji un gran talento ma nasceva comunque col Biakugan non stiamo parlando proprio dicendo di pizze fighi una delle abilità oculare più forti in assoluto quindi bisogna sempre paragonare i livelli di forza anche a seconda della situazione ci ricolleghiamo quindi al fattore discendenza e origini che abbiamo parlato proprio a inizio video quindi per concludere secondo me Sakura all'interno della serie è uno dei personaggi meglio scritti meglio caratterizzati meglio sviluppati cioè la crescita di Sakura è una crescita che si percepisce per tutta la serie cioè si sa molto più di Sakura fondamentalmente che di Sasuke che Sasuke è il classico ragazzino che ha avuto un passato difficile in cerca di vendetta che punta a diventare più forte ma noi di Sasuke sappiamo tra virgolette poco e nulla ci abbiamo visto molto più la crescita di Sakura rispetto che la crescita di Sasuke perché? perché Sasuke era un talento alla nascita quindi non è che c'era molto da sviluppare in Sakura si e si è visto si è visto come da impotente si è tirata sulle maniche ha raggiunto il suo obiettivo e finalmente ha raggiunto i suoi compagni questo era il ruolo di Sakura poter finalmente avere il diritto di dire ok io sono qui con voi e ci sono perché me lo merito perché mi sono impegnata non perché mi hanno affidato a voi a scuola ma dovete fare tutto voi no no io sono qui perché io partecipo con voi quindi raga per me Sakura è un bel personaggio a me piace mi è piaciuto il suo sviluppo la sua caratterizzazione quindi a un popolare opinion Sakura Runo è tutt'altro che inutile anzi per quanto mi riguarda è un elemento fondamentale a parte per lo sviluppo della trama ma soprattutto per le relazioni che poi girano anche intorno a Sakura perché Sakura era anche un po' il punto di contatto tra Naruto e il gruppo perché Naruto difendeva spada tratta Sasuke il gruppo Sasuke invece non lo difendeva quindi anche lì Sakura comunque ha dovuto fare da intermediario insomma Sakura ha tanti lati positivi ha tante sfaccettature potremmo stare qui a parlarne ore e ore e ore magari ne riparleremo anche in live chi lo sa tutto è possibile però ecco secondo me questi sono i punti fondamentali per i quali Sakura Runo non è inutile anzi best personaggio no non è vero non è best personaggio perché quello è Itachi però vabbè non divaghiamo non divaghiamo il video finisce qui io spero che vi sia piaciuto quindi come sempre invito a lasciare un like un commento mi raccomando a condividere il video anche con tutti i vostri amici che pensano che Sakura Runo è inutile o che invece pensano che Sakura Runo è un bel personaggio perché ho bisogno di divulgare questo verbo Sakura Runo top hashtag Sakura Runo best tutti nei commenti mi raccomando se non siete iscritti al canale iscrivetevi perché mi sarebbe davvero di grande grandissimo aiuto vi ricordo sempre che nei commenti ci sono un sacco di link utili per Telegram Instagram soprattutto se volete partecipare ai prossimi Unpopular Opinion io vi ringrazio per aver visto il video passo e chiudo ciao buzai e congoloo Ufff